Siamo in attesa delle prenazioni, sempre qui a Bacolino, la seconda gara del poker con le prenazioni, sempre qui a Bacolino. La seconda gara è una ruota di ortografia. Siamo in attesa delle prenazioni. E' Andrea Bonardi. Andiamo facendo il podio con il terzo classificato che è Mattia Vedovello per Alpi. Abbiamo fatto il podio. Al sesto posto Manuel Ragnoli. Al settimo posto Marco Sbarbiri. Sbarbiri. E' l'ottavo Emanuele Turrizzanoni. Sempre dalla stessa squadra. Bacolino, direttante. E' sciocca. Lello Timbai. Bonardi un attimo. Pasquale. Andrea. E' assueca fortissimo. A fine del podio Lorenzo Alladio. Gruppo ciclistico Varzi. Come vuole tutti sul palco allora Andrea Rigoni. Al quinto posto Gianni Senter. Team BSR. Al sesto posto Ruggero Lipari. Sempre Lorenzo Magni. Fabi Lora. Grazie. Grazie.